Politiche per l'invecchiamento attivo nella regione Abruzzo è stato questo il tema al centro dell'incontro svoltosi a Teramo, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Ancona. Si tratta di un progetto al quale la regione Abruzzo partecipa attivamente con l'obiettivo di sostenere l'integrazione e la partecipazione degli anziani della società e prevenire fenomeni come l'isolamento sociale. Questa è la prima tappa del secondo triennio a cui seguiranno diversi workshop di definizione delle politiche per l'invecchiamento attivo nella regione Abruzzo con il tratto distintivo di includere nel processo decisionale di coprogrammazione e di coprogettazione gli stakeholder interessati dall'associazione sindacali fino all'associazione dei circoli degli anziani, sanitari e via dicendo. Tutto questo nell'ottica di affrontare quello che è il calo demografico, le conseguenze sulla popolazione, l'invecchiamento del paese e quindi con l'intenzione di ridisegnare le polisi nei prossimi anni per fare fronte a questo enorme cambiamento. Secondo gli ultimi dati Istat, l'Abruzzo è una regione dove la popolazione anziana supera quella giovane. Attualmente la regione sta lavorando al nuovo piano sociale regionale per il quale è stata costituita una cabina di regia. Sicuramente la nostra è una popolazione che soffre anch'essa come un po' tutto il resto d'Italia del problema della denatalità e al contempo di un aumento delle aspettative di vita. Quindi come dire una fascia della nostra intera popolazione che diventa sempre più ampia per l'ultimo tratto di vita. Per gli over 65 che diventano un numero sempre più crescendo ovviamente si pongono temi che riguardano ad esempio come affrontare al meglio la terza fase della propria vita di come invece le istituzioni rispetto ai temi che possono essere creati da una fascia di popolazione così ampia provano ad affrontare i temi della prevenzione e della istituzionalizzazione e quindi il percorso più virtuoso che noi immaginiamo si possa fare è quello di rendere questa nostra parte di comunità quella più anziana recuperandone il valore mettendoli a disposizione per affrontare temi che possono essere anche temi di solidarietà sociale, di co-housing e tutte le altre iniziative che tengono insieme come dire questa fascia di popolazione.